Io faccio partire toccando le banche, le istruzioni a scaviate, le rette e le istruzioni di porta elettronica, io te le ho mandate, ma poi sei partito, buono, io ho pigiato, si stava per sapere rimettila a zero, a zero che? e spengila del tutto, io ho spento del tutto, poi li accendo, io gioco una volta, quando giocava si fa duri cominciano a giocare, non c'è una finta di niente, il gioco com'è? ti prendo una morbidina, va bene, mi faceva male anche le scarpe lo sai? si Sembra un'attrezzata Ma io stia che ha anche il gocciolo E anche io ho sentito anche il gocciolino E anche il gocciolo 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 Qui c'è il gocciolo E anche il goccio E anche il gocciolo 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 Sì, ma è più sopra, è più sopra, è più sopra, è più sopra, si va da massa, poi da massa si va a cercare la strada di via del bordo, da massa si va verso il collo e si dovrebbe trovare la macinetta, ah, ah, ah. Fermo, 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 fermo. Ah, ah. Sul campo, campo. Sì. Con questo ghiaccio. Che devo fare? Devi aspettare, devi dare bisogno di andare a me, allunga la gamba, sì. Ah no. Cosa passa? C'è quanto? Allunga la gamba. Devi trovare il punto che ti passa. Così mi passa. Eh, e trova il punto che passa. È un appoggio in terra, eh? Lo so, allora, il campo è tutto così. È il freddo, lo sforzo lì era ammontato. Eh, il campo lo vuoi fare. Lo sozzo di campo o no? No. No. Eh, eh, eh. Vai che passa. Ma passerà anche, ma. Però no. Beh... Non ci stiamo a vincere. Non ci stiamo a vincere, ma. E' il campo? Un pochino sì. Se mi chiamano a lavorare ora voglio ridere. Lo so ti racconto. E c'ho un campo. Grazie a tutti.